Ti ritrovi ad intraprendere obiettivi che sono poco realistici o comunque al di fuori della tua portata? Ti sforzi di far coincidere te stesso con una visione idealizzata di te? Se è così, molto probabilmente sei prigioniero del tuo perfezionismo, una condizione che ti autolimita e ti predispone al fallimento e a sentimenti di vergogna. Sempre ho bisogno di fare una precisazione. In questo video mi riferirò a quella forma di perfezionismo che è controproducente, che porta a bloccarsi e a impedire azioni efficaci. Questo per distinguerlo e non confonderlo con delle caratteristiche che sono chiaramente positive come l'impegno, la solerzia, la precisione, la premura, la costanza, eccetera. Detto questo, argomenterò su sei motivazioni per allontanarsi dal perfezionismo. 1. Il perfezionismo alimenta le nostre paure e le nostre insicurezze. Inevitabilmente si crea un circolo vizioso. Il perfezionismo si forma per scongiurare proprio i sentimenti di vergogna e fallimento che il perfezionismo contribuirà a rendere più probabili. E' proprio così. La propensione ad essere perfetti è spesso guidata da una paura sottostante di fallimento o rifiuto. La posizione che alimenta il perfezionismo sostiene che solo se riusciamo a modellare una personalità del tutto raffinata o a raggiungere qualche obiettivo importante, nessuno ci potrà offendere, ferirci con la critica e la ridicolizzazione. Oppure, in termini più ampi, solo se riusciamo ad ottenere il massimo della nostra intelligenza, a perfezionare il nostro umore o esaltare la nostra bellezza, potremmo ottenere rispetto, stima, approvazione e amore dagli altri. Il perfezionismo, di fatto, è una risposta paradossale e controproducente messa in atto per proteggerti dalla non accettazione dell'imperfezione e dell'essere incompleto. Oppresso da tale convinzione, potresti convincerti che mostrare le tue normali e umane vulnerabilità ti esponga all'accusa di essere debole, di essere un perdente, e quindi potresti aggrapparti ad un desiderio superbo di essere eccellente e impeccabile. Caratteristiche piuttosto incompatibili con la natura umana, non trovi? Perdi così di vista che la vera forza consiste nell'avere il coraggio di ammettere e mostrare la propria fragilità, le proprie sensibilità e ipersensibilità, consiste nel mostrare la propria umanità. Due, il perfezionismo alimenta l'ansia, la depressione e l'irritabilità. Inevitabilmente, legando il proprio valore al raggiungimento di obiettivi realistici, spianiamo la strada alla delusione e a circoli viziosi di ansia e depressione. Oppure, quando qualcosa va storto e non siamo abbastanza forti da assumerci la responsabilità delle nostre azioni, incolpiamo gli altri con rabbia e recriminazioni assurde. Tre, impedisce di vivere nel momento presente. Il perfezionismo ci tiene orientati e bloccati al futuro. Siamo lì tutti presi a pianificare piani strampalati e troppo complicati come Willy il coiote, così cantava Eugenio Finardi, impedendoci di rilassarci e di apprezzare e godere dell'unico tempo che abbiamo a disposizione e su cui possiamo intervenire, cioè il presente. Totalmente assorbiti da ciò che vogliamo raggiungere e da come vogliamo apparire, ci priviamo del semplice piacere di goderci il momento presente e di essere noi stessi. Quattro, abbassa l'autostima. Lo so, sembra un controsenso, ma cercare di essere perfetti ci mantiene in una continua rimuginazione autovalutativa e comparativa. Cerchiamo così disperatamente di dominare ciò che non è sotto il nostro controllo, che diventiamo rigidi e goffi e perdiamo la spontaneità. L'autocoscienza, cioè tutte le riflessioni rivolte a noi stessi, assumendo una connotazione giudicante e svalutante, risulta essere dolorosa e di conseguenza 5 contribuisce all'isolamento. Temiamo che gli altri, scoprendo la segreta valutazione negativa che abbiamo di noi stessi, la condivideranno rimanendone inorrediti e delusi e si vorranno allontanare da noi. Le persone che sono dipendenti dalla perfezione potrebbero giocare d'anticipo dunque, non permettendo a nessuno di avvicinarsi troppo. Tenendo che le persone possano vederle con i loro occhi, con il loro implacabile e spietato sistema di giudizio, potrebbero essere portate ad isolarsi. Potresti mantenere le distanze dalle persone che ti piacciono, che evoluti come talentuose, intimorito dal segreto pensiero che non sarai mai alla loro altezza. Precludendoti così la possibilità di avvicinarti e interagire con persone interessanti che possono insegnarti qualcosa, che possono contribuire al tuo miglioramento e alla tua crescita. E arriviamo così alla sesta ed ultima. Limita l'intraprendenza, la scoperta e la ricerca di novità. Il perfezionismo porta ad essere avversi al rischio. Potremmo evitare qualsiasi nuova attività che potrebbe comportare imbarazzo o rifiuto. Che ne so, come uscire con qualcuno, iniziare lezioni di musica o iscriversi in palestra. Potremmo continuare a procrastinare perché temiamo di non farlo perfettamente, non vogliamo fare brutta figura. La nostra prima direttiva diventa un'esagerata prudenza e di giocare sul sicuro. Di conseguenza riduciamo al minimo l'esplorazione delle novità e viviamo una vita costretta. Il rischio in tutto questo è quello di intraprendere un'assurda battaglia per salvare la propria immagine, quello che gli altri pensano di me. Rinunciando così agli aspetti più intimi e autentici di te stesso. Rinunciando alla possibilità di utilizzare gli inevitabili errori e fallimenti costitutivi di tutti i percorsi di crescita e miglioramento. L'antidoto al perfezionismo è fare spazio alle nostre mancanze umane, accoglierle con gentilezza e autocompassione. Sii umano, la perfezione è impossibile. Sostituendo il desiderio di essere perfetti con l'accettazione di come siamo, pur continuando a migliorarsi e a fare del nostro meglio ovviamente, iniziamo a liberarci dalla vergogna che guida e alimenta il perfezionismo. Constatare e ammettere i propri fallimenti non significa essere fallito. Coloro che hanno avuto successo nella vita hanno subito innumerevoli intoppi e fallimenti. Prova a leggere le biografie dei personaggi famosi. L'errore, il fallimento sono il mezzo essenziale per migliorarci, sono gli strumenti che ci guidano affinché ognuno possa diventare la persona che desidera essere. L'importante è imparare dai nostri errori, perdonare instancabilmente noi stessi, trattarsi con dolcezza, rialzarsi e andare avanti. In modo costante pubblico articoli e video come quello che hai appena visto. Se ti è piaciuto e l'hai trovato utile, sappi che hai gradito un tuo apprezzamento con un like o con un commento. Per essere velocemente aggiornato sulle ultime uscite puoi iscriverti al mio canale YouTube. Oppure, se vuoi entrare in contatto con me direttamente, puoi andare sulla mia pagina Facebook, cliccare mi piace e così potremo interagire per scambiarci pareri e opinioni. Puoi anche andare sul mio sito personale, inviarmi un'email e io sarò felice di ricevere tutti i tuoi commenti e suggerimenti e di rispondere a tutte le tue domande. Ciao!